La grande cucina italiana è in edicola, in cucina con i grandi chef, con il giornale. Barba, capelli, pelo e contropelo. Sto cercando qualcuno. Qualcuno si è fatto la barba? Nessuno. Oggi nessuno. Era solo un'idea di Sergio Leone. Per in Silla, Harry Fonda. Il mio nome è nessuno. Domenica alle 21, su Ritecato. Un soffio di eternità. Roma, da Laura Biagiotti. Torna all'intenso piacere di Magnum. Puro cioccolato fondente, con ripieno al peperoncino. Dopo non sarei più la stessa. Magnum. Chocolate Possession. 8-9-2-5-100 Finalmente un numero utile. Davvero. Proviamo con la nonnetta. Allora, ma che bel bambidone. Non mi zira la chiave. Vediamo se l'8-9-2-5-100 Ci trova il numero di un fabbro qui vicino. Sì, qui, Tomaro. 8-9-2-5-100 Un fabbro presto. Fabbro trovato in 48 secondi. 8-9-2-5-100 8-9-2-5-100 Amore conta Amore conta Liga V Nome e Cognome L'album Nescaffè Cappuccino Cremoso da leccarsi baffi Maria Anna, Pantene Protagonist 2005 I capelli erano ribelli Con l'aria secca Elettrici Aridi Poi Sai cosa ho provato? Il balsamo Pantene Lisci Effetto Seta Ora riesco a mantenersi leggeri e lucenti Lisci 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 Scomera Pantene Innamorarsi dei capelli sani E' tempo di cambiare cavalli Arrivano le leggendarie offerte Opel E' coincentivi fino a 2500 euro E' più finanziamento a tasso zero Su Forza Meriva e Agila Sabato e domenica dai concessionari Open Il tempo è tuo Vivilo Con Infinity Video Dopo il primo minuto Videochiami gratis E le video emozioni non hanno più limiti Vodafone Tutto intorno a me Il maltempo si avvicinava Dovevo raggiungere i miei amici prima che il vento diventasse troppo forte Le nostre ricerche in mare erano durate mesi Ora quell'antico vaso andava portato in salvo Sembrava impossibile Ma ce l'avevamo fatta Amaro Montemegro Sapore vero Per conoscere veramente i protagonisti della storia arrivano le biografie del Corriere della Sera E' in edicola il secondo volume Giulio Cesare Solo con il Corriere della Sera Gianduiotto Novi Solo fregiate nocciole come impone la tradizione Novi Il grande cioccolato italiano Il tuo portafoglio ama Tele2 Perché solo con Tele2 puoi fare da casa urbane, interurbane, illimitate a meno di 17 euro al mese senza canone Telecom Chiama il 1922 Tele2 Perché pagare di più? Viaggio Antonacci Il disco dell'anno Convivendo uno e due in confezione speciale Il tuo regalo di Natale Agente Macera alla lavagna Senta mi spieghi perché con la polizza d'oro di alleanza non rischi i miei risparmi Perché garantisce la scadenza un rendimento minimo del 2% Il capitale può aumentare ma non può diminuire Russo, cosa stai dicendo? Sto dicendo che con d'oro di alleanza se ne viene un accidente i suoi familiari prendono il doppio e il triplo del capitale assicurato Senta Russo invece di suggerire perché non si fa venire un accidente lei così lo capiamo meglio Per punizione aziona come a fuoco Polizza d'oro di alleanza Cronotec orologi Alan e Charlie Uno con un tesoro da trovare Ci vorremmo una barca L'altro con una traversata da affrontare Sorpresa! I loro destini stavano per incontrarsi O forse è meglio dire scontrarsi Io ti butto a mare Troviamo un accomodamento! Bud Spencer Terence Ora che il gioco si fa duro Meglio amici che nemici Perché si sa Chi trova un amico Trova un tesoro Lunedì alle 21 Su Rite 4 Muove, 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 muove Dado Star classico È il sapore che ci vuole Dado Star Il tuo segreto in cucina Ti vedo formosa e smagliante Pollastrella Muo chi sei? Da dove vieni? Con te non parlo Poche aria Ho tutte le piume in regola io Abbascia la cresta galletto Tanto, non ti credo E queste chi sono? Muo che bruci sessi Muo che barbara Uè, lasciami giù Ma che vuoi? Che modi? Ma allora mi perseguo Anche questo è sano Come tutto l'allevamento Sono fuori italiani Vengono controllati Ma potevi dirlo subito Che eri dei nostri Allora Gallinella Becchettiamo insieme Questa sera Muovatene va Peccato I nostri polli Possono andare a cresta alta Non rinunciamoci